In città la proroga del servizio rifiuti alla Campana Tecra si proterrà fino al prossimo marzo in attesa di una soluzione sull'eventuale gara senza passare dall'in-house della Impianti SRR. Le posizioni del sindaco Lucio Greco e dei vertici della SRR4 sono decisamente distanti, ma l'avvocato e l'assessore Cristian Malluzzo vanno avanti in attesa di riscontri sull'opzione della gara che l'amministrazione comunale ritiene l'unica strada percorribile. Anche ieri la sindaco ha risposto duramente alla presidente della SRR4 Filippo Balbo. Una proroga intanto fino al 31 gennaio è stata disposta anche nei comuni delle 5 terre a Niscemi dove sulla carta il servizio in house dovrebbe partire senza altra attese. Invece vanno fatte valutazioni e la proroga disposta dai primi cittadini sembra andare in questa direzione responsabili di impianti SRR e SRR4. L'amministratore Giovanna Piccone e il presidente Filippo Balbo avevano indicato il 10 gennaio come data ipotizzata per partire con il servizio in house. A Butera e a Deia dovrebbero esserci i primi veri banchi di prova anche per l'inquadramento dei lavoratori. I sindacati in blocco non accettano soluzioni che passino da società di lavoro interinale o da contratti a tempo determinato. Oggi i confederali CGL, Cisle Will e i segretari di categoria avranno un confronto con l'amministratore della impianti Piccone e con il presidente SRR Balbo. I segretari confederali Rosanna Moncade, Emanuele Gallo e Vincenzo Mudaro così come quelli delle sigle autonome dell'UGL non sono per nulla convinti dal metodo di concertazione attuato dai responsabili di impianti ed SRR4. Anche la chiamata dei lavoratori per eventuali firme sui contratti senza un coinvolgimento dei sindacati è stata giudicata poco opportuna. Oggi potrebbero emergere ulteriori particolari mentre gli stessi lavoratori già da tempo hanno ricevuto un preavviso di licenziamento da Tecra che però anche nei comuni delle Cinque Terre a Niscemi dovrà mantenere l'attività almeno per il mese in corso. La situazione complessiva anche se dagli uffici di impianti ed SRR4 sembra trasparire un certo ottimismo non pare così lineare. Una richiesta di incontro è stata formalizzata anche dalle altre sigle sindacali del settore a loro volta ferme nel ritenere che l'unico percorso sia quello delle assunzioni a tempo indeterminato. Non mancano dubbi normativi neppure sulla legittimità dell'affidamento in house.